E la difesa del Catanzaro è riuscita a liberare molto bene ed ora è ancora il Catanzaro in avanti. Detto questo diamo uno sguardo alle formazioni. C'è una prima novità di rilievo. In campo c'è il rumeno Nastasi. Nastasi aveva già giocato sia pure per poche minute. E con tiro c'è un fallo. L'arbitro dice di no. Riparte lì. Quindicesimo Cardinali, quindicesimo Maio, sedicesimo Borghi. L'Inter si presenta con Borghon. Per... Marini, Marini, calcia, pallone, sedice. 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 Marini, calcia, pallone, sedice.